Benvenuti nel mondo degli orologi Polis. Polis è un marchio italiano di orologi di moda e accessori fondato nel 1983. Questo marchio si è guadagnato una reputazione per il suo stile unico ed innovativo, che unisce l'estetica urbana e contemporanea con la maestria artigianale italiana. Gli orologi Polis sono caratterizzati da un design innovativo e riconoscibile, con l'uso di materiali di alta qualità come l'acciaio inossidabile, la pelle e il silicone. Molti modelli presentano quadranti grandi e audaci, con numeri romani e indicatori luminescenti. Inoltre, gli orologi Polis sono spesso arricchiti da dettagli originali, come il logo a forma di teschio, ciondoli e braccialetti in metallo. Queste caratteristiche rendono gli orologi Polis perfetti per chi cerca un orologio di moda originale e di classe. Oltre all'aspetto estetico, gli orologi Polis sono dotati di tecnologia all'avanguardia, come cronografi, calendari, funzioni di data e fasi lunari. Inoltre, molti modelli sono resistenti all'acqua e presentano vetro zaffiro antigraffio per una maggiore durata nel tempo. Queste funzionalità rendono gli orologi Polis perfetti per chi cerca un orologio pratico e funzionale, oltre che bello da vedere. La gamma di orologi Polis comprende modelli per uomo e donna, con opzioni che spaziano dalle linee classiche a quelle più contemporanee. Molti modelli sono disponibili in edizioni limitate, che li rendono ancora più preziosi e ambiti dagli appassionati di orologeria. Inoltre, l'azienda produce anche una vasta gamma di accessori come braccialetti, collane e orecchini, che si abbinano perfettamente agli orologi per creare un look completo e originale.